Ciao, ti è mai capitato mentre stai suonando su un palco o mentre stai insegnando o semplicemente mentre stai studiando di avere qualche dubbio su quello che stai facendo? Per esempio sul fatto che sia così importante per te e per il mondo continuare a farlo. Ti sei mai chiesto se tu smettessi a chi importerebbe? Bene, se anche tu ti sei fatto queste domande come me, stai con me perché nei prossimi minuti ti farò conoscere un libro che potrebbe contenere le risposte che ti servono. Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. Vorrei segnalarti un bellissimo libro da leggere che io ho letto nel lontano 1999 e che sinceramente ha dato una forte scossa al mio modo di vedere la musica, al mio modo di vedere me stesso all'interno dell'ambiente musicale e ha dato una forte scossa al mio rapporto con la musica e anche con la vita perché nella mia vita la musica è sempre stata molto importante. Il libro di cui ti voglio parlare oggi è questo, si chiama Effortless Mastery che in italiano sarebbe maestria senza sforzo. L'autore è Kenny Werner, un pianista jazz di fama mondiale e da ormai più di vent'anni è diventato un guru del pensiero musicale. Per farti capire i contenuti di questo libro vorrei leggerti alcuni passi presi a campione. Per esempio, questo capitolo che si intitola Perché suoniamo? C'è un passo che dice questo. Ritorna con la memoria alla prima volta in cui hai toccato uno strumento. Ricordi il meraviglioso suono che ne è venuto fuori? Pensa a quell'esperienza virginale. Ogni cosa tu suonassi sembrava incredibile. Vi era una tale magia in quel suono. Non vedevi l'ora di riprovare. Forse non pensavi nemmeno che potesse esserci qualcosa da imparare. Ti bastava sentire il suono rimbalzare verso di te. Era l'inizio di un processo naturale. Ti ricorda qualcosa? Hai vissuto anche tu questa esperienza? Sicuramente sì, se hai iniziato da bambino, per esempio. Per gioco. Oppure, quest'altro passo invece tratta dell'argomento insegnamento. Mi limiterò solo a citare alcune delle ragioni per cui moltissime persone perdono amore nei confronti della musica studiandola. In seguito, molte di esse riacquistano tale amore come ascoltatori. Ed ecco perché spesso si sente dire vorrei non aver abbandonato le mie lezioni di piano. Nonostante tutto, molti di noi, una volta contagiati dal virus della musica, vanno avanti. Queste prime esperienze ci rendono indipendenti dalla musica e da quel momento in poi non possiamo più farne a meno. Tuttavia, pur continuando a dedicarsi alla musica, molte altre motivazioni si sovrappongono al nostro puro amore per essa. Ora voglio leggerti invece alcune righe che mi hanno veramente colpito duramente. Perché hai paura di suonare male? Naturalmente è comprensibile che durante un concerto tu non voglia suonare male perché il leader di quella formazione potrebbe non richiamarti più e tu non avresti di che cosa sfamarti. Ma perché non hai paura di suonare male quando sei da solo o durante una jam session dal momento che non ci sono conseguenze? Perché senti la pressione della performance anche quando non ce n'è motivo? Non è forse vero che quando suoni mediocremente ti senti male? E non è forse vero che ti sei sentito al settimo cielo dopo aver suonato bene? Te ne vai in giro dicendo, caspita sto andando forte, sono uno dei migliori, ma se suoni male te ne vai in giro con la sensazione del tipo, sono una nullità, sono meno di nulla. Non rivolgetemi la parola, non lo merito. Il fatto triste è che la maggior parte dei musicisti giudica il proprio valore come persona dal livello raggiunto nel modo di suonare. A tal riguardo c'è una connessione insana tra l'abilità musicale e la stima di sé. Ciò diventa il metro per valutare cosa vuol dire suonare male o bene. Questo mette una pressione eccessiva nell'atto di suonare e, come abbiamo dimostrato con gli esempi della nostra vita, quando ci concentriamo troppo sul fatto di suonare bene, otteniamo esattamente l'opposto. E sono sicuro che se calchi i palchi ti sarà successo, sicuramente tantissime volte, magari anche a scuola mentre facevi un saggio. Quindi quello che voglio dirti è che questo libro, secondo me, è un libro che tutti i musicisti dovrebbero leggere. Ci sono tantissimi argomenti che Kenny tocca, come la funzione della paura sulla nostra pratica, sul nostro modo di suonare, sul nostro modo di comporre, sul nostro modo di ascoltare. E poi c'è tutta una parte dedicata a un'introspezione tua, personale. Diciamo che Kenny vorrebbe che noi diventassimo tutti un po' intronauti. L'intronauta è quella persona che viaggia all'interno di se stesso. Il musicista deve fare un bel viaggio all'interno di se stesso, ma profondo. E con questo libro, che contiene anche esercizi di meditazione, puoi fare un bellissimo viaggio all'interno del tuo profondo. E vedrai che suonerai molto meglio quando avrai assimilato e interiorizzato i concetti espressi in questo libro. Non credo che ce ne siano molti altri di libri che trattano gli argomenti che ha trattato Kenny in questo modo. Maestria senza sforzo. Ci vediamo alla prossima con un altro libro che tratta argomenti simili ma scritto da due grandi autori italiani. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Ruggero.